Non fu un atto doloso, tantomeno un attentato, l'incendio del primo aprile scorso che distrusse gran parte della struttura produttiva della Valentino Shoes nell'impianto di via Valiani a Levane. Se da una parte si può fare un sospirone davanti all'ipotesi che erano emerse, vista la stranezza della dinamica e soprattutto quello che accadde sette giorni dopo nella fabbrica attigua, dall'altra aumenta il rammarico per il grave errore che è stato commesso. L'ipotesi della disattenzione sembrava inverosimile, invece il fuoco è scaturito dai sacchi dei residui della raspatura che dovevano essere collocati in un apposito contenitore che invece restarono all'aperto. Questo generò in maniera progressiva l'evolversi delle fiamme che raggiungendo materiale facilmente infiammabile ha prodotto il disastro che è ancora davanti agli occhi di tutti. L'anticipazione è stata pubblicata dal Corriere di Arezzo Stamani e trova la conferma nelle prime ipotesi che già la magistratura inquirente aveva evidenziato tre settimane dopo l'incendio a seguito delle prime relazioni dei vigili del fuoco. Adesso la palla tornerà il procuratore Dioni che dovrà decidere se ci saranno gli estremi della responsabilità colposa.